Ciao, sono Sara, benvenuti al turismo rurale Carrubella. Siamo in Sicilia, nella provincia di Siracusa, nell'area che ricopre il Grand Canyon di Cavagrande del Cassibile, il canyon più grande di tutta Europa. Per quello che riguarda i laghetti, la distanza dalla nostra struttura è soltanto di 600 metri, è possibile accedervi direttamente a piedi e scendere fino a 250 metri all'interno di queste gole dove troverete i laghetti più belli di tutta la Sicilia. Siete persone come noi che amano la natura e cercano la pace tra grandi spazi verdi e colori che si mischiano. Siete turisti che hanno voglia di stare bene, di sentirsi a proprio agio ovunque. Non vogliamo farvi sentire a casa, ma lontano da casa, da smog, lavoro, impegni, orari, appuntamenti, preoccupazioni. Siete voi che scegliete e optate per il vostro bene. Desiderate scoprire quanto verde vi circonda, quanto azzurro c'è sopra le vostre teste e oltre i vostri pensieri, quanto bianco c'è nelle pietre dei muretta secco che vi circondano, quanto giallo c'è nel sole che vi scalda e quanto marrone c'è sotto l'ombra degli alberi che rinfrescano le vostre soste, quanto arancione c'è nei tremonti che riempiono i vostri occhi, quanto lilla c'è nei fiorellini di campo, quanto rosso c'è nella fiamma di un cammino che vi invita a stare insieme. E se vi riconoscete in tutto questo non c'è differenza tra chi siamo e chi siete. A Carrubella, oltre a pernottare all'interno del caseggiato orale che mettiamo a disposizione dei nostri ospiti, da quest'anno è possibile anche fare un altro tipo di esperienza che è quella del glamping. Il glamping è una nuova forma di campeggio, molto diffusa in Europa ma non ancora da noi in Italia ed è un campeggio glamour che ci permette di farvi trovare una tenda già montata con all'interno tutto ciò che vi può essere di conforto come all'interno di una casa, rimanendo quindi in contatto con la natura ma non rinunciando alle comodità. Se pensate dunque di trascorrere le vostre vacanze in Sicilia non perdetevi l'occasione di visitare uno dei canyon più belli di tutta Europa e di venire a passare le vostre serate all'interno delle magnifiche tende che il nostro glamping vi offre. Vi aspettiamo, contattateci presto, grazie Sara.